Eccoci qua, siamo nel villaggio, abbiamo mangiato, hanno fatto la cerimonia, questa è la mamma rana, in i video, è giù a video, eh, in i video, questa è la mamma di Solomon, questa è la mamma di Solomon, di John scusa, di John, no di Solomon, di Solomon, questi sono tutti parenti e amici, questa è una zia di John, tutti parenti e amici, parenti e amici, questa è una sorella acquisita, adottata per una famiglia sempre della stessa famiglia, questo qua è Rompipal, questo è Solomon, questa è Suya, la sorella di John, con uno dei suoi bambini, un altro parente, questi sono Musungo, non ci interessa, non ci interessa, questo è John, questo è John, lei chi è, come si chiama il mio nome? No Longway, no? No Longway, ecco, l'avete capito, come si chiama? Lui è Santeo, vuoi venigina? Meio, 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 ok, e siamo pronti, siete contenti di questa giornata? Siete contenti di questa giornata? Sì, ma non la consegniamo a nessuno, solo noi, solo noi, ok, grazie, questo è tutto il Boma dove vive, la mamma di John, certo una realtà troppo diversa, non è facile, non è facile sicuramente, noi non dormiremo qua stasera, andremo a dormire giù in una specie di guest house, Questa è l'uscita, qua c'è proprio l'uscita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.